Grazie per essere qui oggi per questo match della Serie A Team. Accogliamo con un bel applauso l'ingresso sul terreno di gioco di Sassuolo e Fiordina. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie per essere qui oggi e buongiorno. Grazie a tutti. 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 Fiorentina in gol con il numero 33 Riccardo Sotti. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.